Walla Clouges, non so se l'ho pronunciato bene, ormai lo sto imparando, ma è una delle aziende che produce tappo a vite. Siamo agli Svitatic, è un gruppo, è un evento per promuovere il tappo a vite, per far capire quali sono i vantaggi. Emanuele, spiegaci un po' la tua visione. Il tappo a vite è il futuro, il tappo a vite è un po' quella soluzione che si può dare al vino per vivere nel tempo in una maniera controllata, facendo respirare il vino così come il produttore immagina che il vino possa respirare nel futuro. Perché il vino è vita, ma il vino ha una sua vita ed ha una sua evoluzione. Ed ecco che il tappo a vite gliela può dare, perché la conoscenza tecnica raggiunta da noi produttori è tale per fornire delle soluzioni che hanno una permeabilità controllata. Quindi noi abbiamo diverse soluzioni di chiusura che hanno bisogno di una bocca dedicata, perché è una bocca BVS, e di tappatori dedicati, ma al cui interno possiamo mettere delle guarnizioni che hanno una permeabilità controllata proprio per andare a misurare quelle che sono i milligrammi di ossigeno all'anno che l'enologo, il produttore di vino, vuole avere. E quindi è un po' un concetto diverso dal rito sacro che noi abbiamo sempre avuto, dello stappare con il tappo in sughero. Oggi c'è un crack, che devono fare dei ponticelli all'apertura e non più un suono... Sicuramente la poesia è quello che rappresenta un po' la tradizione del vino, della stappatura, però bisogna mettere anche sul piatto della bilancia il fatto che possiamo trovarci una bottiglia che offre la possibilità della poesia, ma poi il vino è difettato, o sa da tappo, o ha avuto un'evoluzione troppo veloce. Quindi quello che può permettere, da quello che ho capito, il tappo a vite è un'evoluzione programmabile. E da qui possiamo un po' sfatare quello che è una credenza, che il vino imbottigliato con il tappo a vite non può avere evoluzione. Può averla esattamente come l'enologo, il produttore la immagina, ma può averla anche dando il vestito giusto a quello che è un packaging finale, perché poi il tappo a vite è sempre un po' stato percepito come una chiusura cheap, una chiusura che andava sui vini della grande distribuzione venduti a pochi euro. In realtà noi stiamo cambiando questo paradigma, lo stiamo cambiando con delle decorazioni che riusciamo ad ottenere, che danno anche un aspetto molto premium alla chiusura. Ecco che noi possiamo realizzare delle elaborazioni in side e top unboxing, anche con delle decorazioni orientate, che vanno a realizzare una bellezza, il cappello giusto al vestito giusto, come a noi piace definirlo. E quindi sì, chiusura tecnica, sì chiusura adatta all'evoluzione del vino, ma anche una chiusura che dà un aspetto sexy a quello che è il packaging, che magari quando uno va a comprare una bottiglia la sceglie anche per quello e non solo per il prodotto. Certo, come si dice l'occhio vuole anche la sua parte. Corretto. Come vedi la differenza tra come viene percepito questa tappatura in Italia o all'estero? Allora, in Italia abbiamo un po' un concetto culturale che dobbiamo cercare di scardinare, perché all'inizio erano i disciplinari a bloccare l'utilizzo del tappo a vite, quindi il disciplinare richiedeva l'utilizzo del tappo in sughero e suoi simili. Oggi invece in alcuni disciplinari siamo riusciti, lavorando con i produttori, lavorando anche con il governo in alcuni momenti. Siamo riusciti a scardinare questo preconcetto, facendo entrare nei disciplinari l'utilizzo del tappo a vite. All'estero è lo standard. Noi che abbiamo un respiro internazionale come azienda sappiamo che i mercati come l'Australia e la Nuova Zelanda non conoscono altro tappo se non il tappo a vite. Addirittura. Se pensiamo ai Riesling della Mosella, al mercato già tedesco, che utilizzano il tappo a vite come cappello per il loro packaging. Pensiamo agli Stati Uniti, dove il tappo a vite è richiesto, è un must, come lo chiamano loro. E in ultima analisi immagina un produttore italiano che è soprattutto falcidiato da quella che è stata l'epoca del Covid, che vuole approcciarsi la grande distribuzione all'estero. La grande distribuzione all'estero il tappo in sughero lo avete abbastanza di mal occhio, perché vorrebbero vedere il vino esattamente nella sua concretezza come è stato pensato dall'inizio. E il tappo a vite è quello che lo garantisce.